Una grande prestazione, una grande finale, avete sofferto molto di più nelle partite precedenti, nei quarti e nella semifinale, oggi alla grande? Oggi alla grandissima, intanto mi scuso per la voce, l'abbiamo finita e noi abbiamo lavorato sin dall'inizio per dare tutto, per arrivare fino in fondo e sapevamo che era tostissima, non conoscevamo gli avversari, quindi l'unica cosa è che abbiamo dato tutto e questo ci fa onore. Grazie a Giuliano!